Due classi dell'Istituto Alberghiero Artusi Casale Monferrato sono protagoniste di un cortometraggio per ognuna di loro nell'ambito del Monfilm Fest che si svolge a Casale Monferrato, in particolare nell'appuntamento di sabato dopo le ore 17. Si tratta per gli allievi della seconda A e della seconda B, oggi terza A e terza B, di una tappa del progetto Cyberbullismo, curato dall'ente educatorio della Providenza e nato dalla sensabilità e dalla grazia anche alla proposta della docente diretta dell'Istituto Cristina Baroglio che ne è stata la referente. Gli obiettivi sono quelli di promuovere una navigazione informata su web e social media, conoscere e prevenire i rischi del mondo digitale, utilizzare la rete in modo costruttivo ed esercitare la cosiddetta cittadinanza digitale. Il progetto che è stato svolto a maggio ha avuto un incontro con una psicologa che ha approfondito il tema del mondo digitale con i relativi rischi, pericoli e sanzioni. Poi ci sono state quattro sessioni con il regista Luca Percivalle che ha anche competenze educative. Qui i ragazzi sono stati coinvolti nel progetto, hanno elaborato una storia, strutturato la relativa sceneggiatura e sono stati loro gli attori riprese cortometraggio che è stato realizzato all'interno dell'Artusi, che è una scuola sempre molto sensibile a questo tema. Per la prima volta hanno partecipato alle riprese in prima persona anche le forze dell'ordine, in particolare la polizia postale, la quale a sua volta utilizzare il cortometraggio come strumento di prevenzione contro tale fenomeno. A settembre il progetto avrà poi un seguito anche nel prossimo anno scolastico, in quanto sarà utilizzato e presentato dai ragazzi passati al punto alla frequenza della classe terza e a tutte le altre classi dell'istituto e loro stessi diventeranno referenti per quanto riguarda il contrasto al cyberbullismo nella speranza di poter così aiutare che si dovesse trovare in qualche situazione di disagio o di necessità. Il cortometraggio realizzato con il concorso della classe seconda A si intitola Le scelte che fai possono cambiarti la vita, ha una durata di 3 minuti e 27 secondi. È un pochino più lungo quello invece realizzato e che ha coinvolto la linea della seconda B, il cui titolo è un'immagine condivisa in rete e ti segue ovunque ed ha una durata di 3 minuti e 58 secondi.